Siamo al Palabigi dove i ragazzi inizieranno l'allenamento in vista della partita con Massa martedì 26 dicembre alle ore 16 qui al Palabigi, una partita importante che potrebbe delineare al meglio la classifica. Siamo con il capitano Nicola Sesto e il vicecapitano Andrà Ippolito. Ragazzi nelle ultime due partite ma soprattutto nell'ultima forse la Milorcona della stagione efficaci in attacco, in battuta, battute veramente determinate e consapevoli del fatto che andassero di là ricezione perfetta quindi siete pronti per affrontare questo finale di stagione chiamiamolo così con delle squadre che sono alla vostra portata e di dimostrare che non siete assolutamente per la Pulci. Sentiamo Nicola Sesto. Ma guarda sicuramente soddisfatti di queste due vittorie ma sostanzialmente non abbiamo fatto nulla perché siamo ancora nella parte bassa della classifica e c'è ancora da lottare. Questo qui delle festività natalizie è un periodo molto delicato perché poi a livello mentale i sbandamenti sono dietro l'angolo e noi non ce lo possiamo assolutamente permettere. Quindi come sempre testa bassa, lavorare, anche se è natale, allenarci e cercare di dare il meglio nella partita che secondo me è veramente decisiva a questo punto contro Massa che pur essendo ultimi in classifica all'andata purtroppo non abbiamo raccolto punti. Quindi testa bassa, lavorare e concentrare sull'obiettivo. Ippo, la vittoria con Potenza Picena è stata importante? Ma soprattutto a livello di carattere. Avevate un'assenza importante ma siete riusciti ad andare oltre. Avete fatto, anzi, avete giocato di squadra. Questo paga sempre? Ah sì, sicuramente. Assenza o non assenza al giocare di gruppo paga. Siamo riusciti a sopperire l'assenza del nostro posto titolare nel migliore dei modi. Tante volte quando manca una pedina importante si riesce appunto a fare forza sul gruppo e a far uscire fuori la parte più importante di noi stessi perché sappiamo che comunque in qualche modo dobbiamo sopperire a quella mancanza. Ci siamo riusciti con Potenza Picena, io spero che riusciremo anche martedì contro Massa. Io l'ho detto dopo Castellana, insomma, è iniziato un periodo di finali per noi. Quindi adesso ne mancano cinque e dobbiamo affrontare queste cinque partite come fossero cinque finali. Punti importanti, ne sono i massi 15 e dobbiamo riuscire a portare a casa più punti possibili. Secondo me se riusciamo a continuare a giocare così possiamo toglierci tante soddisfazioni. Adesso dobbiamo puntare subito a massa. Come dice Nico, il periodo natalizio è un pochettino delicato sotto il punto di vista mentale perché insomma abbiamo qualche distrazione in più. Insomma le festività ovviamente portano a pensare anche a qualcos'altro oltre alla palla a volo e quindi ecco dobbiamo essere bravi poi martedì a ricatapultarci qui al Palabigi per giocare una bella partita. Facciamo tutti e due la stessa domanda, una domanda banale ma allo stesso tempo difficile visto le circostanze. Mi fate un bilancio della situazione fino ad oggi? Beh guarda sicuramente è un anno importante mettiamola così perché comunque partire da zero con 12 giocatori su 13 nuovi non ti nego il fatto che abbia creato diverse difficoltà all'inizio. Se a livello di gruppo diciamo che siamo riusciti bene a creare una dischetta amalgama ancora bisogna crescere per il potenziale che ha questo gruppo su diversi aspetti. però questo miglioramento si ha in palestra e quindi continuiamo a lavorare a seguire le indicazioni e sicuramente il tempo poi ci dirà chi siamo e che campionato siamo riusciti. Io sarò molto più breve di Nico e ti dico che fino a settimana scorsa il bilancio non poteva essere positivo sicuramente perché abbiamo un ottimo potenziale e non siamo praticamente mai riuscito a dimostrarlo a mettere in campo dalla settimana scorsa forse è cambiato qualcosa quindi come come sapete a me piace guardare avanti mi piace farlo nel migliore dei modi e vi dico che che secondo me da qua in poi sarà sarà un'altra Conad. Facciamo gli auguri di Buon Natale a tutti da parte del Capitano e del Vice. Auguri a tutti e speriamo che sia un 2018 fortunato divertente di grandi speranze. tanti auguri a tutti e il 26 al Palabigi ciao